Stai cercando una custom? Questa è una spettacolare Black Widow. Ciao ragazzi, sono Alessandro della Giurisci Moto e oggi vi presento una bellissima vedova nera. Volete sentire il sound? Ragazzi, è pazzesco. La moto che vediamo in questo video è stata in Madre 4 nel 2001, ha percorso solo 46.000 km ed è praticamente unica. Colorazione cangiante, dotata di sissi bar, insomma veramente eccezionale. Il custom per antonomasia, facile da guidare, comoda e ricca di personalità. Andiamo a scoprire insieme come è stata preparata questa bellissima moto. Bene ragazzi, primo step eseguito. Già cambiato un po' faccia, inizia un po' a brillare. Ma ora, una bella lucidatura e poi sarà pronta per il salone. Seguitemi. Fatti un regalo. Vieni in via Benzizia 800 a Caronno per Tusella, giudici moto. Vieni in via Benzizia 800 a Caronno.